Era senza biglietto a bordo dell'autobus, ha aggredito due controllori ed è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista dell'episodio, un nigeriano di 22 anni, irregolare, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, a bordo di un mezzo della linea 4, è stato avvicinato dai controllori che lo stavano identificando per procedere a sanzionarlo in quanto era sprovvisto di biglietto. Improvvisamente l'uomo ha iniziato a spintonarli con violenza per fuggire, ma sul posto stava già arrivando una battuglia dei carabinieri chiamata dagli stessi controllori e così il nigeriano è stato fermato e arrestato.